Un quadro di degrado sociale è quello che emerge andando ad approfondire la vicenda dell'Ascia che qualche giorno fa è stata trovata conficcata nel parabrezza di un'auto di un pregiudicato. Palazzo del Pincio al lavoro per mettere una pezza sull'aumento della mensa scolastica prevista per il prossimo anno. Lunedì incontro con Vivenda, spiega l'assessore Tinti. Il commissario straordinario dell'Ater, Fasoli, ha firmato una delibera che dà il via alla pubblicazione del bando per l'housing sociale, prezzi calmierati per giovani coppie, forze dell'ordine e famiglie con redditi medi. È in programma il 20 agosto al Parco Viugri Spiegarelli il concerto di Veronica Marchese in arte Ninaif, tra i singoli della cantautrice indipendente Aprile sul tema della violenza sulle donne. Di spalle durante l'inno di Mameli e quattro minuti giocati volutamente con l'uomo in meno. È la protesta del Settebello nella gara giocata ieri con la Spagna per gli errori arbitrali subiti nei quarti con l'Ungheria. E prende forma un quadro di degrado sociale intorno alla vicenda dell'ascia trovata infilzata sul parabrezza di una macchina di proprietà di un uomo con tanto di biglietto di minacce. Nel corso dell'ultimo anno sono state tante le segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere De Sanctis arrivate alle forze dell'ordine a causa della vita sregolata e dei comportamenti molesti dell'uomo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per arrivare all'identità dell'autore del folle gesto. Vediamo il servizio. Mentre i carabinieri continuano le indagini per arrivare a capire chi possa essersi reso protagonista di un gesto folle diventa sempre più complesso il quadro intorno alla vicenda dell'ascia trovata infilzata sul parabrezza di una macchina di proprietà di un uomo già noto alle forze dell'ordine per diversi reati con tanto di biglietto di minacce. Sono state infatti tantissime continue nel corso dell'ultimo anno le segnalazioni da parte di un intero quartiere che si era mobilitato per mettere fine a continue situazioni di degrado legate proprio alla vita senza regole dell'uomo in questione. Tra rumori molesti durante la notte e minacce ai condomini e liti continue con gli abitanti dell'isolato. Il tutto nonostante l'interno della casa che la protagonista della storia ha occupato ci sia un minore. Il fatto che non sia ben visto dal quartiere proprio per i suoi comportamenti molesti viene confermato dai carabinieri. Nel quadro che viene a delinearsi il proprietario della vettura passa almeno parzialmente dall'essere vittima di un gesto assolutamente censurabile qualsiasi possano essere le motivazioni scatenanti a carnefice di comportamenti che vanno oltre la decenza. La situazione che si è venuta a creare insostenibile secondo chi abita nel quartiere De Santis ha portato alcuni cittadini che come detto nel corso dell'ultimo anno hanno segnalato più volte alla comune e alle forze dell'ordine le diverse situazioni di assoluto degrado a organizzare una raccolta firme da presentare a polizia e carabinieri e alla procura della Repubblica per provare a mettere fine a quello che viene definito un vero e proprio inferno. Come detto nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri per provare ad arrivare all'autore del gesto. Tra le piste seguite dai militari della caserma di via Antonio da Sangallo quella di verificare in tutte le ferramenta della città se qualcuno abbia acquistato un'ascia. Quella trovata conficcata sul parabrezza anteriore dell'auto risulta nuova e potrebbe essere stata comprata recentemente. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale stabilisce la possibilità per tutti i locali cittadini di svolgere attività di intrattenimento fino alle 3 del mattino limitatamente alle notti comprese tra il 14 e il 15 e il 15 e il 16 di agosto dunque in occasione del Natale della città. Il provvedimento deroga quindi alle precedenti disposizioni sindacali con le quali venivano stabiliti limiti orari differenti in base all'ubicazione dei locali rispetto al centro abitato. Rimangono invece inalterate le altre regole quali il divieto di vendita di bibite da asporto in vetro dalle ore 21 alle ore 7 del mattino. Resta invariata anche la disciplina oraria per la musica nelle restanti serate. Il comune ha lavoro per mettere una pezza sui rincari mensa. L'assessore alla pubblica istruzione Stefania Tinti ha spiegato di aver già contattato la società che si è aggiudicata il bando da 4,8 milioni di euro per i prossimi 4 anni. In particolare si sta discutendo sulla possibilità di prevedere nuovamente gli sconti per i secondi e i terzi figli e di rimodulare le fasce legate all'Isee che con la delibera di giunta da parte della precedente amministrazione sono state ridotte a 5, accorpando situazioni economiche differenti di alcuni nuclei familiari e in particolare nella fascia dai 20.000 ai 40.000 euro. Se Vivenda non dovesse essere disponibile al rispetto alle richieste del comune i servizi sociali di Palazzo del Pincio si faranno carico delle situazioni critiche Sentiamo l'intervista. Si lavora anche sulla questione delle mense con l'aumento che si è registrato appunto per il bando che è stato formalizzato nell'anno precedente. Su che si sta lavorando, Assessore? Allora, io personalmente ormai da parecchi giorni, devo dire prima ancora che ci fosse un po' di clamore mediatico, stavo lavorando con la nuova ditta che ha vinto questa nuova gara di appalto di tipo europeo perché è importante, con stazione appaltante hanno lavorato su un capitolato che è stato varato, nulla questo, dalla vecchia amministrazione ma era un capitolato che si intravedeva benissimo che avrebbe avuto delle falle perché da 8 fasce di reddito i 6 si passa a 5. C'è una stretta che io trovo molto dolorosa per una fascia intermedia in particolare perché i 20.000 e 40.000 sono stati accorpati con una percentuale massima di spesa per le famiglie, 100%. Poi non è stato più introdotto lo sconto per il secondo figlio ma neanche lo sconto per un terzo, quarto, quinto quindi ovviamente ci sono delle tipologie in particolare, io dico, di famiglie che sicuramente soffriranno. Io sto lavorando direttamente con la ditta che ho prontamente contattato sia a livello di procuratore generale sia a livello di direzione responsabile di zona devo dire che ho trovato ascolto ma non so se troverò soluzione perché giustamente hanno vinto un bando di gara a quelle condizioni. Mi lascia un po' sperare le interlocuzioni che ho avuto più volte, c'è un consiglio di amministrazione straordinario che va a valutare eventuali perdite sopportabili da parte dell'azienda e poi stiamo a vedere una volta che abbiamo questa risposta certa andremo a valutare noi come comune come potremo intervenire senza ovviamente variare un capitolato su cui una gara è stata effettuata. Alessandro Battilocchio, deputato del territorio, ha visitato la comunità Il Ponte a Civitavecchia fondata da Don Egidio Smacchia che dal 1978 si occupa di giovani e di adolescenti con problemi di dipendenza e disagio. Il programma accoglie ai ragazzi dai 16 ai 22 anni con problemi di dipendenza o a rischio. Dalle 2000 è attivo un programma specifico per donne con figli minori al seguito. Battilocchio, accompagnato da alcuni amministratori di Forza Italia e del comprensorio, ha visitato la struttura e ha poi incontrato il presidente Pietro Messina, il CDA, gli operatori e infine i ragazzi. Ogni volta che entro in questa struttura mi sento a casa, ha sottolineato. Soprattutto mi sento coinvolto in un progetto bellissimo di solidarietà e inclusione che era il sogno del caro Don Egidio e oggi è una splendida realtà. Con Il Ponte esiste un rapporto consolidato nel tempo. Da sindaco di Tolfa e poi da parlamentare ho sempre avuto il privilegio di poter collaborare costantemente con questa struttura che rappresenta un'eccellenza del territorio e va difesa e valorizzata. Civitavecchia Popolare invita l'amministrazione comunale a chiarire alla cittadinanza urgentemente i motivi del pesante aumento dell'importo delle bollette idriche e nel contempo ad avviare una trattativa con Aceato 2 affinché, visto che il comune di Civitavecchia è stato costretto a suo tempo a forza di legge a cedere il proprio servizio itico, si pretende almeno l'apertura di uno sportello della società attivo sul territorio per almeno due giorni a settimana. Cresce la confusione sul perché degli aumenti e insieme l'indignazione di molte famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, affermano, e si vedono imporre a sorpresa un ulteriore ingente sborso da pagare per un servizio indispensabile. L'amministrazione chiarisca. Crescono in città i bed and breakfast e non ci sono case in affitto. Per affrontare un problema che con crocerismo e giubileo in arrivo è in aumento anche a Civitavecchia. L'Ater ha dato il via ad un bando per l'housing sociale per una parte degli appartamenti dell'immobile del PZ4. Prezzi calmerati per giovani coppie, forze dell'ordine e famiglie con redditi medi compresi tra 25.000 e 49.000 euro. Vediamo il servizio. L'Ater di Civitavecchia moltiplica il suo impegno verso le fasce sociali più vulnerabili, lanciando un piano ambizioso per rendere il mercato immobiliare più accessibile anche a tutta quella fetta di popolazione che abitualmente rimane esclusa dalle agevolazioni, la fascia per così dire media. Il commissario straordinario Massimiliano Fasoli ha firmato una delibera che dà il via alla pubblicazione del bando per l'housing sociale per una parte degli appartamenti dell'immobile del PZ4. In collaborazione con la Regione Lazio, infatti, l'Ater offrirà affitti calmerati a giovani coppie, forze dell'ordine e famiglie con reddito medio compreso tra 25.000 e 49.000 euro. Le nuove abitazioni, disponibili a canoni inferiori del 20% rispetto ai valori concordati, consentiranno a molte famiglie di accedere ad alloggi recentemente realizzati all'interno della sagoma del PZ4. Si tratta, ha spiegato Fasoli, di una strategia che stiamo mettendo in campo per andare a rispondere ad un'esigenza del mercato immobiliare che in questo territorio è ancora più marcata. Tra crocerismo e giubileo in arrivo, infatti, si moltiplicano le soluzioni alberghiere come ad esempio affitti brevi, BNB e affittacamere e benvenga, sottolinea, ma questo va a creare uno squilibrio. Dobbiamo affrontare questa emergenza che si sta creando. Io, come Ater, ritengo che dal punto di vista della politica abitativa l'unica risposta sia garantire a tutte le fasce sociali di entrare nel mondo dell'affitto. Il bando, in pubblicazione dalla prossima settimana sul sito dell'Ater, mira proprio a tutelare questa fetta di popolazione, garantendo al tempo stesso un'entrata importante all'azienda che ha come obiettivo primario quello di reggersi sulle proprie gambe. A settembre inoltre partirà anche una verifica dei redditi di chi abita negli alloggi ERP, andando poi a riequilibrare gli affitti per evitare discrepanze nel massimo della trasparenza. L'obiettivo finale è quello di avere un bilancio sano in modo da poter utilizzare i fondi esclusivamente per il patrimonio immobiliare. Una notizia che riguarda anche tanti civitavecchiesi. Sono stati riorganizzati dalla comune di Tarquigna i parcheggi a Sant'Agostino. L'intervento nell'area di sosta della località costiera al confine con Civitavecchia è stato realizzato nel primo e fine settimana di agosto e si è reso necessario per rendere libera e percorribile l'unica strada che porta alla spiaggia e disciplinare il parcheggio delle auto con l'attivazione di un servizio effettuato dal personale dell'azienda Ditec, gestore degli stalli a pagamento. L'obiettivo dell'amministrazione, affermano il sindaco Francesco Sposetti e l'assessore ai lavori pubblici Sandro Celli, è quello di garantire un accesso in sicurezza all'arenile di Sant'Agostino, frequentato in estate da migliaia di persone. Spesso nel corso degli anni la sosta selvaggia ha causato non pochi problemi alla viabilità rendendo quasi impossibile il transito delle macchine e dei mezzi di soccorso e ha generato tensioni tra i cittadini. L'iniziativa vede il coordinamento e la presenza costante della polizia locale. Veronica Marchese, in arte Nina If, è la accountautrice indipendente che si esibirà in concerto nella serata di martedì 20 agosto al Parco Spigarelli di San Gordiano, dalle ore 21. Ha già all'attivo diversi singoli che proporrà nel corso della seconda edizione del Festival della Musica, tra cui Degno Dimensione è Aprile, che affronta il tema della violenza sulle donne. Sentiamo l'intervista. Si terrà il 20 agosto al Parco Spigarelli una bella serata con Nina If. Allora io la prima domanda è proprio per te di raccontarci la tua storia. Allora io sono Nina If innanzitutto e sono una cantautrice indipendente e da non moltissimo sono una solista per cui ho intrapreso un percorso indipendente da sola nell'arte della musica. Sono già uscita con tre brani, con tre singoli circa un anno e mezzo fa. Il primo è stato Non lo so, poi c'è stato Sabato per ricominciare e di recente è uscito Aprile. Tutti i brani che poi potrete ascoltare il 20. Quanta soddisfazione ti dà questa carriera da solista? Tanta per l'amore che ci metti nell'investire sul tuo progetto. La soddisfazione è forte e potente perché ci sono tante cose belle dietro, ci sono tanti sogni, tante ambizioni e tanta voglia di fare musica. Allora parliamo della serata del 20, quanto ti fa piacere esibirti allo Spigarelli di San Gordiano e che insomma quali canzoni sentiremo immagino anche i tuoi singoli? Sì esattamente, si potranno ascoltare i miei singoli, si potranno ascoltare delle cover riarrangiate e insieme a me ci sarà Yuri Petronilli alla chitarra e si alternerà fra la chitarra acustica e la chitarra elettrica. Quindi diciamo sarà una serata che inizierà un po' più soft e poi continuerà un pochino più vivace. E ti ha mandato un saluto Valeria De Angelis, tra poco lo ascoltiamo, insomma ti fa piacere anche questo. Tantissimo, devo ringraziare Valeria per questa esperienza e le mando anche un grande caro saluto. Ciao a tutti, allora volevo ricordarvi la serata del 20 agosto al Parco Yuri Spigarelli di San Gordiano dove si esibirà Nina If, cantautrice indipendente che presenterà oltre al suo repertorio classico di Pope, Soul e Rock i suoi pezzi, i suoi pezzi sabato, non lo so, e aprile che è l'ultimo singolo che è uscito. Nina If è appunto una cantautrice indipendente che sempre sostiene il movimento sulla violenza contro le donne e mescola un po' l'essere donna all'essere bambina. La sua voce meravigliosa vi accompagnerà per tutta la serata. Approfitto per mandare a lei un carissimo saluto. Ed iniziano domani gli appuntamenti con il cartellone estivo Civita Vecchiese con una serata dal titolo per Aspera ed Astra, dedicata alle stelle viste sotto l'aspetto astrologico, mitologico, musicale ed anche astronomico. Gino Saladini ed Ernesto Tedesco tratteranno l'affascinante tema legato agli astri da un punto di vista astrologico e psicoanalitico, mentre Mario Camilletti ripercorrerà i miti della nascita di alcune costellazioni. Emiliano Manna presenterà alcuni lavori del compositore astronomo Erskel e alcune improvvisazioni proprie legate al tema della serata. Graditissima poi la presenza dell'Associazione Astrofili Civita Vecchiese che affronterà il tema più scientifico dell'osservazione delle stelle, soprattutto in questi giorni che costituiscono il clou delle cosiddette lacrime di San Lorenzo. Una serata di cultura, musica e scienza quindi, ad iniziare un cartellone che l'assessore Stefania Tinti e la delegata Valentina Petringa hanno messo a punto in pochissimo tempo. L'appuntamento è per domani alle ore 21 presso la piazzetta Flavio Mazzocchi alla Cittadella della Musica. L'ingresso è libero e non serve per notazione. E si terrà domani alle 21 all'Arena Pincio l'edizione numero 19 di Miss Civita Vecchia Elegance 2024. La manifestazione organizzata da Gloria Salipante, docente di scuola di portamento, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Civita Vecchia e il contributo al finanziamento della Fondazione Calicib. Sul palco spineranno ben 13 Miss. A partire da lunedì prossimo e fino a nuova comunicazione, l'ufficio Servizi Lucevotive di via Aurelia Nord 2 di Civita Vecchia, che si trova all'interno del cimitero monumentale, sarà aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle ore 12. Per esigenze particolari è possibile contattare il personale telefonando al numero 0766 39 0036 oppure inviando una mail all'indirizzo servizi cimiteriali chiocciola civitavecchiaservizipubblici.it La DICIV informa che la sede di via Isonso resterà chiusa da oggi a martedì 20 agosto compreso. Eventuali necessità potranno essere comunicate tramite mail o whatsapp. Nel mese di agosto la dottoressa Marianna Mazzucca, biologa nutrizionista, non effettuerà consulenze dietologiche e riprenderà le attività a partire dalla seconda decade di settembre prossimo. Si ricorda che possono usufruire della consulenza gratuita anche le persone con diabete e non che al momento non aderiscono all'ADICIV. Le prenotazioni per le consulenze potranno essere effettuate a partire dal 2 settembre prossimo tramite cellulare, email e whatsapp. Bene, termina qui la prima parte del nostro TG ma restate con noi perché subito dopo il break le notizie sportive. Una protesta silenziosa e rispettosa ma che ha fatto al tempo stesso tanto rumore, non solo in Italia. Il settebello di Marco Dellungo ha deciso di dar vita ad un'iniziativa singolare contro quanto successo nei quarti di finale contro l'Ungheria con il clamoroso errore dell'arbitro che ha annullato il gol del 3-3 di Condemi. Espulso lo stesso giocatore per brutalità, regalato un rigore ai Maggiari e lasciato gli Azzurri con un uomo in meno per 4 minuti. Il sette di Sandro Campagna nella gara disputata ieri contro la Spagna, valida per il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi, ha voltato le spalle alla giuria durante l'ino nazionale e giocato i primi 4 minuti dell'incontro volutamente con un uomo in meno. Per la cronaca gli spagnoli hanno poi vinto 11-9 ma a far decisamente rumore è stata la clamorosa, ma come detto giustificata, protesta azzurra. Dopo la fine del progetto della Civitavecchia Volley Academy, la CV Volley ha subito iniziato a programmare la nuova stagione. La società della presidente Viviana Marozza ha confermato alla guida della Serie C femminile coach Alessio Pignatelli. Novità arrivano invece per quanto riguarda il settore giovanile, ma sentiamo il servizio. La Civitavecchia Volley è pronta per la nuova stagione. Sono stati definiti la programmazione e l'organico per le prime squadre per il settore giovanile dell'associazione presieduta da oltre 17 anni da Viviana Marozza, coadiuvata da uno staff di 10 dirigenti. Il progetto della Serie C femminile riconferma la guida coach Alessio Pignatelli, a cui si affiancherà Simone Celestini, altro storico tecnico della società, con l'obiettivo B2 sempre più chiaro in mente dopo aver concluso le ultime due stagioni ad un soffio dalla promozione. Le novità maggiori sono previste invece per la Serie D maschile, che sarà allenata da coach Evelyn Guanà, che con un organico di tutto rispetto cercherà di ottenere il massimo risultato da una serie regionale così impegnativa. Il settore giovanile riparte con la prima divisione femminile, con i coach Cesarini e Ventura, la prima divisione maschile, Under-19 maschile con Crocca e Libassi, Under-18 femminile con Cristiano Cesarini, Under-16 femminile con Veronica Guidozzi, Under-14 e Under-13 femminile con Cristiano Cesarini e Simone Rubini, Under-12 femminile con Simone Rubini e Chiara Ventura, Under-15 e Under-17 maschile con Evelyn Guanà, Under-13 e Under-12 maschile con Andrea Cabelli. Le attività saranno incrementate dal gruppo Amatori Misto, che sarà allenato da Pierluigi Crocca, e Rino Borriello. Anche il settore micro-volley, volley S3 e mini-volley, ripartiranno a settembre con importanti novità. Le attività sportive si svolgeranno negli impianti degli istituti Marconi, via Adige, via Pollodoro e Scuola Cialdi. Tra i progetti di punta dell'associazione per la prossima stagione ci sarà la creazione del Multispace Civitavecchia Play District, un progetto ambizioso per la creazione di uno spazio civico che la SD Civitavecchia Volley potrà realizzare in collaborazione con diverse realtà del territorio, grazie al bando di sport e salute S.P.A., vinto lo scorso maggio. Il progetto e tutte le attività gratuite e previste saranno presentate ed avviati dopo l'estate. La campagna di rafforzamento del quartiere Campo Oro, in vista della sua partecipazione al campionato di seconda categoria, si chiude con un nuovo annuncio. La società del presidente Antonello Quagliata ha chiuso l'accordo con il centrocampista Luca Pizzardi. Il giocatore che ha fatto parte della Juniors e della compagnia portuale ha passato 5 anni alla Sampio X, oltre a vestire la maglia del CSL Soccer in prima categoria, è stato presentato al Vittorio Tamagnini con il direttore sportivo Pino Antonucci e il vice allenatore Mauro Rocchetti. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Come consuetudine, Telecivita Vecchia si prende una breve pausa a partire da lunedì e per la settimana di feragosto con il telegiornale che tornerà in onda lunedì 19 agosto. Non mancheranno però gli aggiornamenti e le notizie relative alla nostra città consultabili sul giornale telematico www.trcgiornale.it. Da tutta TRC, l'augurio di un buon ferragosto.